ciao ecco finalmente il mio debutto sul tubo non ho mai fatto un video quindi scusate se sbaglierò qualche pronuncia sbaglierò qualche accento sbaglierò qualche parola vedrete i mostri praticamente in questo video allora cosa dirvi di me ho 24 anni sono della campania e come ormai tutte saprete sono un appassionata di make up studio però anche sociologia all'università di salerno e spero di laurearmi presto non so bene ancora cosa farò di questo canale non so se fare tutorial anche perché non penso di esserne molto in grado non avendo ancora fatto nessun corso per diventare ancora nessuno però mi piacerebbe intraprendere questa strada infatti sto infatti cercando dei corsi nella mia regione che mi possano permettere di lavorare in questo campo intanto mi informo leggendo libri leggendo su internet come facciamo tutte ma mi piacerebbe avere un approccio più tecnico alla materia anche se non vi nego che per me il make up è pura follia e pazzia io amo sperimentare amo fare accostamenti improbabili amo giocare un po' con i trucchi mi sento un po' una bambina che dipinge infatti molto spesso cerco cavie per i miei esperimenti per questo ringrazio le mie amiche sempre disponibili ad essere le mie cavie cosa altro dirvi bene o male chi mi legge sul blog conosce già che tipo sono alla fine non ho nulla di più e nulla di meno delle altre anzi era proprio per questo che non volevo fare i video perché alla fine sul tubo ci sono un sacco di recensioniste bravissimi di make up artist bravissimi e quindi il mio canale potrebbe essere una goccia nell'oceano però nello stesso tempo mi piaceva avere un rapporto con voi a 360 gradi già sul mio blog ci sono le mie foto però la mia voce ancora non la conoscevate almeno non tutte beh per ora penso che il video finisce qui anche perché non so cosa altro dirvi ma datemi dei consigli su come sfruttare il mio canale su come fare qualcosa di nuovo e poi se già mi conoscete fatemi sapere se vi piacerebbe che io facessi qualche tutorial o qualche recensione di qualche prodotto specifico che non conoscete ma che volete appunto conoscere non so alla fine voi cosa vi aspettate da un canale youtube quale sarebbe il consiglio migliore che una ragazza o una ragazza qualunque potrebbe darvi bene fatemi sapere se la luce va bene non so se qualche altra cosa non va bene i miei capelli se vanno bene anche se sono un po' gonfi al momento vabbè lasciamo stare i miei problemi di volume ai capelli intanto vi saluto grazie ancora di aver visto questo video che sarà il primo forse l'ultimo non lo so va bene ciao